E adesso passiamo alla pagina dedicata al coronavirus. In Puglia ieri è stato registrato un record di nuovi contagi e il tasso di positività è molto più alto rispetto alla media nazionale. Intanto oggi riprende a pieno ritmo la campagna vaccinale. Ascoltiamo. Un tasso di positività al 18,59 per cento più che doppio rispetto alla media nazionale e oltre 2.000 nuovi contagiati registrati in 24 ore il record assoluto dall'inizio della pandemia che confermano senza alcun dubbio che ci troviamo nel pieno della terza ondata. La Puglia sta scontando le tre settimane consecutive vissute in fascia gialla e gli effetti sono nei numeri della pandemia. Ne è convinto l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco sottolineando che l'intervento precoce di istituzione della zona rossa ha certamente prevenuto un'ulteriore diffusione del virus che ieri ha anche provocato 27 vittime. Per capire che piega prenderà la curva epidemica bisognerà aspettare non meno di dieci giorni mentre da oggi riprenderà a pieno ritmo la campagna vaccinale. Dopo il disco verde dell'Agenzia Europea del Farmaco al Siero di AstraZeneca siamo pronti senza indugi a riprendere la campagna di immunizzazione anche in Puglia annuncia Lopalco spiegando che sono 15.000 le vaccinazioni sospese negli ultimi tre giorni e che da oggi pomeriggio riprenderanno le somministrazioni su persone di scuole e università forze dell'ordine amministrazione penitenziaria bloccati a scopo precauzionale lunedì scorso. L'obiettivo è abbassare la pressione sugli ospedali che stanno reggendo ma sono sotto stress. Ieri sono stati 21 malati covid ricoverati nei reparti intensivi pugliesi che complessivamente ospitano 219 degenti dato che rende la regione sesta in Italia per numero complessivo di pazienti che si trovano in terapia intensiva anche se resta stabile al 38 per cento il tasso di occupazione dei posti letto mentre scende di un punto percentuale rispetto a mercoledì e si ferma al 43 per cento l'occupazione dei posti letto in area non critica covid. Lo rende noto l'agenzia nazionale per i servizi sanitari evidenziando che il 16 virgola 39 per cento dei 1.580 accessi registrati ieri nel pronto soccorso della regione ha riguardato casi sospetti di infezione da coronavirus. Intanto il direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro specifica che la regione ha si sospeso fino al 6 aprile prossimo le attività di ricovero degli ospedali pubblici covid e non covid ma non quelle delle strutture private accreditate.